Fortunatamente se la sono cavata con poco le due giovani di Castione della Presolana che questo giovedì pomeriggio intorno alle 13 sono uscite fuoristrada con la loro auto mentre percorrevano la variante di Clusone Rovetta in Alta Val Seriana. La loro Ford Focus grigio antracite viaggiava in direzione nord quando probabilmente per il fondo stradale reso scivoloso dall'abbondante pioggia ha perso aderenza e si è ribaltata nel fossato accanto alla carreggiata. La ragazza alla guida 23 anni di Castione ha riportato solo qualche graffio, è uscita da sola dall'auto ed è subito stata trasportata all'ospedale di Piario per i controlli di rito. Ad avere la peggio la seconda giovane donna, 19 anni, anche lei di Castione della Presolana, che invece è rimasta incastrata nelle lamiere contorte dell'auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Clusone per estrarla senza gravi conseguenze dall'abitacolo. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo ma gli uomini del comando di Clusone hanno dovuto ad operarsi per quasi un'ora sotto la pioggia battente per completare il lavoro e liberare la gamba della 19enne dalla morsa del metallo. Secondo i sanitari la gamba potrebbe aver subito una frattura. Sul posto per evitare problemi alla circolazione stradale anche le pattuglie della polizia locale.